L'aeroporto di Orio al serio ha sospeso tutte le operazioni di volo a seguito di un incidente avvenuto questa mattina, quando un aereo Ryanair proveniente da Barcellona ha subito lo scoppio di quattro pneumatici al momento dell'atterraggio. Fortunatamente, nessuno tra i 162 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio è rimasto ferito. Il velivolo è stato immediatamente fermato sulla pista e i vigili del fuoco hanno proceduto con l'evacuazione in sicurezza. Secondo le prime informazioni, il pilota è riuscito a mantenere il controllo dell'aereo nonostante l'incidente, evitando ulteriori conseguenze. La società di gestione dell'aeroporto, SACBO, ha confermato che le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese, con partenze ritardate e arrivi potenzialmente dirottati o cancellati. Inizialmente era stata prevista una riapertura per le 18, ma i lavori di ripristino della pista hanno richiesto più tempo, posticipando la riapertura alle 20. Lo scoppio degli pneumatici ha provocato danni su un tratto di 450 metri della pista, che ha subito una leggera scalfitura superficiale. Il Boeing è stato rimosso nel pomeriggio e trasportato in un hangar per le riparazioni. Intanto, i tecnici di Ryanair sono a lavoro per rimettere in servizio l'aereo, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sul ripristino completo dello scalo.